Salve amici, ci troviamo all'interno dello showroom per quanto riguarda i divani della ditta GMB in grossomobili che si trova in via Messina Montagne numero 16. Siamo all'interno di questa meravigliosa struttura dove all'interno appunto troverete meravigliosi divani. Oggi ve ne faremo vedere alcuni che la ditta GMB in grossomobili di via Messina Montagne numero 16 propone a voi amici che state guardando questa televendita. E appunto iniziamo da un meraviglioso divano, è il Primus che insieme qui con il nostro amico Salvo andremo a vedere le caratteristiche. Il Primus è un divano con chasse longue davvero sensazionale, di ottima manifattura e qualità eccezionali. Il Primus è un divano tradizionale ma rivisto in chiave moderna. Giuste proporzioni, giuste imbottiture, nulla è lasciato al caso. La cura è massima per ogni dettaglio. Qui vediamo lo spazio all'interno di questo vano dove voi potete mettere ciò che vi tenete opportuno. Ma c'è anche una pedale estraibile appunto per riposare meglio. Un divano appunto dove non manca nulla. Che la ditta GMB gli propone a soli 650 euro. Ovviamente è un affare da non perdere. Adesso appunto siamo all'interno dello showroom. Ci sono tantissimi divani che ovviamente non possiamo farvi vedere tutti. E vi invitiamo a tutti coloro che state guardando questa televendita di venire sempre in via Messine Montagne numero 16 a Palermo. Il personale della ditta sarà a vostra disposizione. Ma noi vi proponiamo oggi un altro meraviglioso divano. Questa volta parliamo del divano Etna. Sempre il nostro amico Salvo che ci accompagna. E allora Etna è un divano angolare di forte impatto estetico e di grande comfort. Un mix perfetto di eleganza estetica e materiale d'eccellenza. Il divano Etna si caratterizza per la qualità strutturale, le imbottituri confortevoli e la grande attenzione ai dettagli costruttivi. L'Etna inoltre è dotato di una pedana estraibile e un comodissimo terminale Puff contenitore che appunto insieme qui al nostro amico Salvo stiamo andando a vedere. Appunto il contenitore Puff dove appunto potete mettere tutto ciò che ritenete opportuno ed è un divano veramente bello appunto di materiale d'eccezione. Un bel divano comodissimo che è la ditta GMB in grossomobili oggi vi propone a soltanto 990 euro. Appunto non è uno scherzo soltanto a 990 euro. Appunto Salvo ci fa vedere altre caratteristiche del divano. I poggiatesta regolabili appunto un divano che è di forte impatto estetico molto molto bello. Adesso continuiamo il nostro cammino all'interno di questa meravigliosa struttura. Guardate qui ci sono altri divani che appunto oggi non andiamo a descrivere perché vi invitiamo a tutti di venire in questo favoloso showroom. E adesso vi presenteremo un altro divano che la ditta mette in offerta per voi amici. Amici, il divano che andiamo a presentare è il Sascha. È un divano tre posti letto dotato di un meccanismo che consente di aprire con facilità la rete nascosta al suo interno. Che adesso appunto il nostro amico Salvo ci fa vedere con quale facilità esce fuori la rete. Guardate, basta un semplice movimento e il tutto è fatto. Il divano dispone inoltre di un comodissimo materasso. Le sedute sono ampie e confortevoli. E lo schienale nasconde un pratico e comodo porta guanciali. Che appunto andiamo a vedere. Qui all'interno potrete mettere i guanciali. Questo divano appunto il Sascha. Amici, udite udite perché la ditta GMB in grossomobili più che vendere quasi regala. Lo trovate a soltanto 450 euro. Il divano Sascha, ripeto, 450 euro. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Adesso andiamo a proporre un altro divano appunto. Il divano che vi andiamo a proporre è il Tivoli. L'immensa morbidezza rende il divano Tivoli un'isola di estremo comfort. Il Tivoli si caratterizza per le linee leggere ed eleganti. Il divano con ampi braccioli, schienali imbottiti e comodi poggiatesta. Lo rendono particolarmente confortevole e capace di delineare un mondo elegante e unico. Il Tivoli è un divano dai contenuti tecnici molto elevati, tali da garantire un'ottima qualità e lunga durata nel tempo. Inoltre questo divano è disponibile nella versione due posti e tre posti, che oggi la ditta GMB in grossomobili che si trova a Palermo in via Messina e Montagne numero 16 propone ai seguenti prezzi. Il due posti soltanto 260 euro, per il tre posti 390 euro. Amici, noi vi aspettiamo qui in questo magnifico showroom in via Messina e Montagne numero 16. Inoltre voglio ricordare a tutti voi che la ditta offre il montaggio e trasporto gratuito. Inoltre voglio ricordare a tutti voi che i divani che vi abbiamo mostrato sono in offerta e anche il trasporto e il montaggio è in regalo. La ditta in grosso e mobili GMB che si trova a Palermo in via Messina e Montagne numero 16 vi aspetta numerosi. Ciao a tutti!